Arrivavano anche nell'Aretino i preziosi rubati da bande organizzate di ladri che agivano principalmente in Lombardia, Piemonte e Liguria. L'oro e l'argento infatti sarebbe arrivato in due ditte Aretini sotto forma di lingotti ben due volte a settimana. La banda di topi d'appartamento agiva seguendo un sistema ben collaudato. Prima effettuavano i furti in casa, i tabaccheri e i garage e poi si dirigevano ad un campo nomadi di Milano per vendere la merce dove alcuni sinti fungevano da ricettatori. I preziosi venivano poi fusi in lingotti da mezzo chilo in una fonderia clandestina. Ed è a questo punto che la catena di furti e ricettazione interessa anche la provincia di Arezzo dove per ben due volte a settimana i lingotti d'oro venivano consegnati ad una ditta orafa di Arezzo mentre l'argento ad un'azienda di Castiglion Fibocchi. A loro arrivava tramite un cingalese che faceva la spola nell'Aretino assieme alla convivente. Ad individuare e smantellare la banda grazie ad indagini ed appostamenti sono stati i carabinieri di Milano a conclusione di una lunga inchiesta su furti commessi in tutto il nord Italia negli ultimi due anni. L'operazione denominata Prometeo nelle prime tre fasi aveva già portato all'arresto di 35 persone. Nelle ultime ore ne sono finite in carcere altre 5, 3 del Campo Roma ed altre 2 invece per la catena di ricettazione. Grazie.